A Chieti l'onorevole Bagnai della Lega ha preso parte alla conferenza stampa per presentare la squadra e la struttura del partito, con lui anche altri esponenti, il segretario provinciale della Lega Maurizio Bucci. Nella fase post-congressuale che abbiamo avuto a marzo, chiaramente io ho iniziato un'attività di ascolto sul territorio, girando tutta la provincia in lungo e in largo, perché abbiamo necessità, il partito della Lega veniva da percentuali importanti, poi c'è stata la fase calante, come sappiamo tutti, in questo momento credo sia importante organizzarsi. Quindi l'organizzazione non può prescindere dalle persone, chiaramente, perché la Lega è un partito che, proprio perché l'ordine di scuderia, diciamo, quella del partito di Salvini è stata quella di indire congressi, quindi dopo la fase congressuale chiaramente vanno fatte delle nomine, il partito si deve organizzare sul territorio e la conseguenza di tutto questo è che oggi procediamo a integrare quelli che sono già dei punti di riferimento, sul territorio dove già erano presenti. Ed ecco le nomine, vice segretari Mario Colantonio Chieti, Ermanno Falone Vasto, referente provinciale enti locali Fabrizio Leonelli, coordinatori cittadini Giuseppe Vaccaro Casalbordino, Leo Basilico Gissi, Francesco Del Prete Vasto, Vincenzo Gialloreto Tollo. Intanto l'onorevole Bagnai parla delle prossime scadenze elettorali come le regionali. Io tendo a considerare l'attività di radicamento del territorio non tanto in vista delle scadenze elettorali che sono importanti, quanto in vista dello stringere un rapporto, un rapporto più stretto con i cittadini che consenta di fornire loro una visione, la nostra visione di paese. Ma come vede in questo momento il partito sul territorio? Siamo in una fase di riorganizzazione, questa conferenza stampa lo dimostra, è un segno di vitalità, è il segno del tentativo di strutturarsi progressivamente presidiando una serie di realtà importanti. Per quanto riguarda le elezioni appena trascorse, l'onorevole commenta le divisioni nel centro d'estrateramo. Dobbiamo indubbiamente fare un ragionamento su che cosa porta lo schieramento conservatore, lo schieramento di centro-destra a frazionarsi in occasioni come queste. Il ragionamento è in corso, lo sta facendo il segretario regionale. Nel quadro nazionale abbiamo visto che in realtà la proposta del centro-destra continua a convincere gli elettori. Nel quadro nazionale abbiamo visto che in realtà la proposta del centro-destra.